E questo chi è? Ah, è il mio ragazzo. Non c'è neanche un televisore che manda una partita. Ma dove siamo capitati? Mi manca Instagram. Ma dai, hai gli occhi azzurri! Dovremmo parlare, forse. Ma se può parlare solo lui? Adesso le dico qualcosa. Ma come si chiama? Chissà che voce ha. Ciao! Ciao! Voglio mettere una fattina sorridente. Puoi farlo dal vivo se vuoi. Come? Sorridi? Prova a sorridere. Muscoletti, occhi, tutto quanto. Sì. Mi piacette e piacesse piacere te be... Voglio commentare. Fallo e basta. Commenta. Lol! Non è un gran che, ma sta migliorando, no? Posso mettere mi piace? Non serve. L'ha già capito che ti piace. Io condivido. Ma che cazzo condividi? Cosa condividi? Con chi? A chi interessa questo momento se non a te che l'hai vissuto? Se non a voi tu, a chi interessa? Cosa lo condividi? L'hai vissuto in prima persona. Ma pensa che l'hai vissuto con i tuoi occhi, che rimarrà per sempre nel tuo cuore. E che noi non siamo abituati. Cusi, lo so. Cusi. Siete due inetti? Ma possiamo migliorare? Cosa vuol dire inetti? Non sapete cosa vuol dire inetti? No. Lo cerco su Google. Vabbè, ho capito. Che cos'è? Un dizionario? Non sapete cosa è un dizionario? È una roba vera. Lo usano da migliaia di anni. Ci sono scritte le parole sulle pagine con l'inchiostro vero. Niente di tutto questo? No. Ragazzi, mi arrendo. Io ci ho provato, ma davvero il vostro stile di vita non lo condivido. Eh, non c'è internet. Quando la vena fa...